bella a tutti ragazzi oggi siamo qui con il video sul canale andiamo a vedere una mappa di mira secondo me devastante la migliore che c'è in questo momento secondo me perché tante persone postano la miglior mappa di mira e poi ti mettono la scavok che solitamente o non è aggiornata con le armi oppure comunque molto noiosa e soprattutto ti porta sempre le solite situazioni ovvero magari il robottino che gira nel percorso tipo pacman da traccherare molto utile per carità molto utili ma poco divertenti e comunque non hanno veramente delle situazioni che poi in gioco si ritrovano almeno la maggior parte andiamo a vedere questa mappa che secondo me se ne parla veramente poco ingiustamente perché veramente completissima utilissima e soprattutto non ti fai non ti viene proprio ti viene naturale farla nel senso è divertente non ti annoia farla come certe mappe andiamo subito a vedere qual è ok ragazzi siamo dentro questa è la mappa allora il codice se si vede bene è lì sopra praticamente si può già vedere così se no comunque ve lo metto in descrizione questa è la mappa si presenta così abbiamo il computerino classico che troviamo nell'inventario per tornare sempre alla base ovvero qua è una desert eagle che ci serve per iniziare le varie sezioni le andiamo a vedere velocissimamente questione di pochi secondi ognuna per vedere cosa servono e cosa cosa ci possono aiutare qui abbiamo una sezione in cui c'è da cercare di tirare giù un bot in uno spazio stretto con un cono dentro come vedete il bot è molto dinamico non è proprio statico quindi è utile è molto utile è molto utile ok dobbiamo vedere la seconda la seconda abbiamo sempre un bot però abbiamo un ambiente circostante molto più aperto che ci porta a muoverci anche noi in maniera diversa perché ci sono dei saliceni ci aiuta ad essere un pochettino più ok la semplicezione col bot in questo caso non ci sono né saliceni né niente non siamo neanche dentro il box abbiamo il bot semplicemente che si muoverà si muoverà si solterà e simulerà una sorta di sparo ok questa è l'ultima parte in questa sezione ovvero ci sono due bot l'ambientivo sarà tirare giù vedete che abbiamo due centri di vita passiamo alla seconda parte credo che sia dedicata alla mira con l'assalto comunque alla lunga distanza vediamo un attimo direi che parla deltaplani quindi prendiamo una mitra all'ierna magari lo scarca in gioco e vediamo un attimo di provare ok abbiamo una mira da lontano col deltaplano l'obiettivo è cercare di prendere al bot che si sta tirando giù ovviamente si dropperà da più posti sia da vicino che da lontano saranno di scegliere l'arma per essere abili per cercare di prendere più danni possibili ok qui abbiamo un'altra parte qui i bot sono praticamente impulsati in avanti ma da vari posti ovvero saranno di essere reattivi capire da dove arrivano e cercare di trackerare questo qui è molto utile sia per la mild che per la mild in quanto in questa season c'è il martello e più o meno alle volte quando si sparano via col martello trackerarli questa maniera sarebbe opportuna ok qui abbiamo possiamo selezionare la distanza in questo caso scegliere un assalto per la pistola che è bestiala e sassi bisognerà cercare di taggare l'avversario taggare ovvero hittarlo colpirlo sono molto distante io non sono molto abili nella mira dalla distanza però diciamo che l'obiettivo è questo i bot come vedete sono molto dinamici e compiono movimenti non diciamo assolutamente intuibili quindi come vi dicevo nella intro non è la classica mappa in cui fanno percorsi già per destabilità quindi simula di più diciamo delle situazioni che puoi trovare magari in partita o comunque che si avvicinano da più ecco abbiamo questa parte adesso questa forse è un po' più complessa poiché noi stessi saremo più dinamici ovvero saremo spostati mentre cercheremo di prendere dei tag mentre si muoveremo molto complesso ma molto molto utile veramente ok abbiamo finito le prime due sezioni come avete visto sono veramente utili andiamo sulle ultime tre ok qua dovrebbe essere una sorta di tracking di mitraglietta più o meno se non ricordo male molto complesso questo perchè bisognerà colpire questo salsicciotto nel mentre che verremo trascinati via molto utile ok nella seconda parte abbiamo questo allineamento il combat davvero utilissimo anche perchè il combat lo abbiamo già in gioco in questa season quindi uniamo l'utile al dilettevole qua abbiamo sempre lo stesso risultato di prima semplicemente che le spie le troveremo più a lungo raggio ovvero gli stati da noi possiamo farlo sia con il combat che con la R questo per sviluppare un pochettino di feeling con entrambe le armi senza mirare ok andiamo nelle ultime due attenzione ok praticamente i bot spawnano tramite questo suono e salteranno e jumperanno via davanti questo allena i nostri riflessi e ovviamente il tracking e la mira di una rispettiva arma molto difficile molto difficile perchè i bot vanno giù veramente molto velocemente e soprattutto ci sono angolazioni veramente difficili da prendere a volte passiamo a questo esercizio che è molto bello ovvero avremo un pompa appena colpiremo la sfera verremo proiettati da un'altra parte e avremo la mitraglietta l'obiettivo sarà colpire il pompa e poi subito switchando con la mitraglietta lo farei in automatico vediamolo subito ok avete visto appena colpita la sfera avremo proiettati e l'obiettivo sarà quello di colpire poi o comunque di chiudere tra virgolette la kill della sfera con la mitraglietta sarebbe opportuno usare soltanto il caricatore di di mitraglietta in questo caso faccio fatica ok qui abbiamo un tracking di mitraglietta come vi dicevo prima forse più utile perché innanzitutto è su un personaggio su un bot in questo caso che salta e noi saremo dovremo essere abili a colpirlo mentre lui colpirà questi balzi ok qua abbiamo più bot però la differenza rispetto a prima è che siamo possiamo muoverci bene noi intorno a questo questa stanza diciamo ok andiamo nell'ultimissima sezione ok qui a differenza dell'esercizio precedente che abbiamo visto abbiamo di nuovo verremo sbalzati appena colpiti la sfera ma rimarremo sempre col pompa quindi sarà utile avere prontezza nel colpire velocemente la seconda sfera quando verremo sbalzati sempre con la stessa arma vediamo un attimo non è facile ha il suo grado di difficoltà ok questo è un esercizio molto utile a mio avviso perché simula una situazione che si può trovare spesso in creativa ma anche in partita quando l'avversario vorrebbe approfittare di una nostra distrazione nel caso noi stessimo sparando qualcun altro da una situazione di altezza di high ground l'avversario a volte potrebbe sorprenderci come dico spesso io salendoci sulla schiena in questo caso noi dovremmo essere abili a tenerlo a distanza traccherandolo quando si avvicina ok qui abbiamo una situazione di tiro il bersaglio con l'SMG ci sono i coni possiamo anche spostarci volendo avvicinarci vi consiglio vi consiglio di fare sempre questi esercizi senza mirare perché comunque vi aiutano ad avere più feeling specialmente quando siete dentro al box contro un avversario e siamo arrivati all'ultimo esercizio ovvero sei colpi unica arma disponibile questo qui questo qui anche se non sembra è uno tra i più interessanti e più utili perché questa sfera davanti diversa dalle altre è molto difficile da colpire fatelo senza mira ovviamente vi aiuta molto con il riflesso niente ragazzi avete visto che è una mappa veramente che si fa tranquillamente ci si dedica ci si può dedicare pochi minuti al giorno e si porta veramente a casa tantissimo quindi io vi consiglio di farla di dedicarli qualche minutino e vedrete tutti i risultati che otterrete io niente vi saluto ci vediamo al prossimo video un bacione e bella a tutti